E' più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio di la bandiera bianca. E' negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono. Quella parola negoziare è una parola coraggiosa. Quando tu vedi che sei sconfitto, che la cosa non va, avere il coraggio di negoziare. E ti vergogna, ma adesso continui così, quanti morti e poi finirà peggio ancora. Negoziare in tempo, cercare qualche paese che faccia del mediatore. Oggi per esempio con la guerra in Ucraina sono tanti che vogliono fare un mediatore. La Turchia per esempio, non avere vergogna di negoziare prima che le cose siano peggio.